Civil Week 2024, siamo ad Arese insieme a un esponente di Emergency, che cosa siamo qui a fare, che cosa portate oggi in questo comune e poi non solo ad Arese? Sì, sì, allora in questo comune portiamo una camminata che abbiamo chiamato Camminata della Solidarietà, abbiamo fatto un primo progetto stamattina a Bollate ed era sempre una camminata organizzata da noi con altre otto associazioni, lì si chiamava Passo dopo Passo per la Pace, è un nome diverso ma lo spirito è sempre lo stesso, solidarietà e pace, e allora diciamo che siamo stati un po' i promotori, però poi abbiamo avuto l'appoggio di tante altre associazioni del territorio, qui in realtà siamo abbastanza un po' protagonisti, abbiamo una struttura, una mostra nostra dell'Uganda, del nostro ospedale dell'Uganda. Siamo alla casa delle associazioni di Arese. Qui abbiamo esposto una mostra sul nostro ospedale in Uganda, abbiamo dei visori per vedere il progetto dell'ospedale in 3D e abbiamo anche tutta la struttura nostra di Emerge con il banchetto e il materiale informativo. Comunque ecco, diciamo, come partecipazione a questo tipo di iniziative è il primo anno, abbiamo avuto dei risultati abbastanza positivi e probabilmente ci proporremo anche nelle prossime edizioni. Bene, questa è un'ottima notizia, allora buon lavoro e buona Civil Week. Grazie.